Buongiorno, documenti per favore. Lasciami! 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 Ehi, stop! Sennò, ciò potete cresciuto. Vani, io ti bevoci nel blu. No! Per l'ultima volta, il suo nome, cognome, data di nascita e origine. E tu ce l'hai, i figli? Mi lascia, per favore! Mi lascia! Sì, un figlio. E come si chiama? Ivan.